Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Allora continuano le critiche nei confronti del governo Meloni. Molte di queste critiche sono assolutamente giustificate se pensiamo ad esempio per quanto riguarda l'immigrazione. I dati ci dicono che sono triplicati gli arrivi rispetto ai governi Draghi e Conte. Chiaramente la sinistra italiana ne approfitta per attaccare il governo e ha anche pure applaudito il ministro dell'interno francese che ha dichiarato che la Meloni nella gestione dell'immigrazione è una incapace. Oserei dire così da che pulpito viene la predica una sinistra che si è sempre dimostrata totalmente inefficiente perché è chiaro che è facile aprire tutti i porti, fare arrivare chiunque, ma questo non vuol dire saper gestire l'immigrazione. Soprattutto abbiamo visto poi cosa ha prodotto negli ultimi vent'anni l'arrivo di questi migranti che poi non sono stati inseriti adeguatamente perché non esiste una politica in Italia da questo punto di vista. Ma perché non interessa? L'unico interesse è portare migranti perché si spera che questi un domani possono votare per la sinistra piuttosto che per il centrodestra. Ma nelle ultime ore così si discute molto del piano economico da parte del governo Meloni. Prima l'intervento sul reddito di cittadinanza che è stato notevolmente ridotto e poi sulle famose, adesso francamente anche qui sembra il gioco delle tre tavolette, andranno in tasca gli italiani 50, 60, 70, si arriverà a 100 euro e tra l'altro questo solo fino a fine novembre, poi non si sa cosa succederà. Ecco il balletto delle cifre e la sinistra, strumentalizzando il tutto, è riuscito pure a criticare un intervento che non sarà un intervento risolutore, anche perché, ripeto, vediamo cosa succederà dopo novembre, ma è pur sempre, sono pur sempre rispetto alle casse italiane che sono quasi vuote, dei soldi che vanno in tasca ai ceto medio-basso e quindi chiunque dovrebbe così riconoscere che è una buona manovra. Poi uno potrebbe aggiungere che non è sufficiente, ma semplicemente criticarla come ha fatto la sinistra anche no. E io ho avuto modo di ascoltare, interpellato alla trasmissione della Gruber 8,5 Travaglio e non sono assolutamente d'accordo in questo caso sulla disamina che lui ha fatto, dicendo che questo tipo di politica che va a sfavorire i più poveri la destra la pagherà cara a livello elettorale. Io vorrei ricordare intanto a Marco Travaglio che finora chi è stato castigato per le proprie politiche in questi 10-15 anni è la sinistra stessa, perché mi risulta e penso anche a lui che se andiamo a fare l'analisi del voto, a votare per il Partito Democratico e in generale per la sinistra, siano più il ceto medio-ricco, medio-alto che sono quelli dei centri storici, dei centri delle città. Questo ci dice il dato elettorale. E francamente l'altra cosa che va aggiunta da questo punto di vista, quando lui paventa che perderanno questo elettorato, che io non credo che questo tipo di elettorato va a votare o vota per la destra o la sinistra perché uno dà di più, uno dà di meno. Perché abbiamo visto che ultimamente, negli ultimi anni, è stato fatto poco, ma proprio perché c'è poco, perché sono stati sperperate le risorse del nostro paese negli ultimi 20 anni. Ma casomai se uno decide o decidesse di andare a votare, io credo che vota destra o sinistra per altri motivi e non per quanto riguarda l'economia dove entrambi hanno lavorato malissimo, prima distruggendo questo paese e poi è evidente una volta distrutto. Se non ci sono i soldi non è che possiamo ridistribuire. Cosa ridistribuiamo? Ridistribuiamo appunto le bricciole, come hanno fatto i governi precedenti e come è costretto a fare adesso il governo Meloni. Ma casomai uno sceglie di votare destra e sinistra per una questione ideologica, no? Io vi ho sempre detto io mai potrei votare per la sinistra perché per me il caposaldo della mia vita è la famiglia e io vedo una famiglia totalmente diversa da come la vuole vedere la sinistra. Quindi francamente questa ipotesi di Marco Travaglio che la Meloni perderà alle prossime elezioni europee il proprio consenso perché non ha avuto un occhio di riguardo ai poveri, questa è una barzelletta come se da questo si potesse vincere che quindi questi voti dovrebbero andare alla sinistra. Anche no perché io credo che un elettore del centrodestra nel momento in cui dovesse essere non soddisfatto dalle politiche della Meloni sicuramente non voterebbe a sinistra ma non andrebbe a votare al limite, no? Si aumenterebbe ed è questa un po' l'ipotesi che si può fare nel futuro, ci sarà ancora più astenzionismo. Quindi ripeto in conclusione la disamina è sbagliata perché la Meloni distribuisce quello che c'è e la disamina è ulteriormente sbagliata perché anche gli elettori del centrodestra che non dovessero essere contenti a limite non vanno a votare ma sicuramente non votano per la sinistra. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.